Cosa ne pensi il fatto che mira e maestro si possono rompere? Ma raga a me piace tutto di quello che hanno mostrato tranne i droni Per me ci sta tutto L'unica cosa è i droni Perché vi ripeto a livelli alti può essere stancante Può essere... Cioè a volte si potrebbero creare delle situazioni un po' Magari io prendo eco, puscio, faccio da romer Tanto pure se muoio non sono inutile, capite? Si potrebbe creare questa... Vai proviamo dove eco Vai divertiti Sto prima vedendo da cazzo eco Ok ho visto L'arma, aggiustiamoci l'arma Io lo uso con l'angle grip A bearing ho visto... Cioè le mitragliette tipo quella di smoke L'hanno aumentato un bordello il rinculo Mamma mia Quella di vigil non hai idea Quella di vigil come smg devi praticamente... Ho già capito come controllare il rinculo Però è tosto Devi andare in diagonale, in basso a destra E dopo un tot Correggere di nuovo andando... È soltanto in basso Ci mettiamo già i droni così pure se moriamo Io sono inutile Vado a Roma con eco Perché non hai già vietato scusami? Non facciamo caso al fatto che mi sono tirato... Eh appunto ho notato Vabbè Troppo aggressivi ragazzi però Vigi sa che si può muovere anche nel mentre che... No Ha quell'effetto attivo No, non penso Che cazzo spari, lasagna? Faria che in realtà potresti anche stare in site con eco E tenerti le cure delle mie torrette E giocare con scudo e cure Ma è new meta Pushi con eco? Tanto per se ti fai una kill è buono E se muori sti cazzi Eh ma tu che sei tre armor con la mia cura Vai oltre di vita Sì, quello sì Però qua lo dico Sai dove sono? Sul tetto sicuro A tetto? Io con la mitraglietta non ci posso fare niente Perché 125 HP? Hanno trasformato l'armor in vita ragazzi Tre donne rotti Questa cosa è figa dei droni eh? Mamma mia Lion ha rotto il cazzo Sei inutile Sono tutti sul tetto Quando scendono mi fa un fischio Pranne quello che sta aspettando da quel buchino Sono tutti sul tetto E' sopra le scale Di main alla finestra Ho fatto un piccolo buchino e basta Sinchia, quella cazzo gioca però la gente Insomma C'è gente ancora a rovina Se questo fosse furbo Si curerebbe Questo può essere così scemo Sì ma vatti a curare Ci sta uno nell'altro site Morto Se vuoi prendete il boost di vita C'è che ci sei Eh no perché se salgo Se non è scoppio Da destra Sinistra Una e sotto Sotto di te Bravissimo Sinistra Dietro la pianta Bello No non me lo spara più Grazie Ah era la rotation Finistra Ah era fuori Eh bravo Peccato che t'hanno spaccato subito il primo drone Sì Pezzi di crack Allaghi allaghi Quanto eri pingato? Poco Non ho visto ping rossi No 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 Uno sì Uno sì Ero spottato C'era scritto un rosso Però non lo so quanti Vanno spottato in 17 Ma proviamo melusi La dove so buildà però Come hai visto sto post mortem Poca roba Comunque ti conviene stare in site Vabbè provamelo sì No vabbè ma Non ho visto il post mortem Perché non sono morto Quindi non lo so Però sì Ma hanno spottato Non so di ripeto in quanti Però Allora Visto che lo rompono Io rimetto i gadget Esattamente dove erano prima Che li ho visti molto utili Perfetto Adesso lo mettiamo qua Ti sei preso una cura extra tu Eh sì Eh sta cosa Cioè dovrebbero mettere Che si attiva solo inizio round Appena si inizia il round Vabbè tanto si riattiva in poco tempo Non è così tanto un problema Mettimolo qua Sto provando a metterli in modo Da non farli romper Eh siamo tutti che rompiamo Tua madre Twitch Io penso che Quello C'era a terra E uno noccato da me E' uscito per sparargli Proprio in cerca di kill Ok Io sto controllando theater Uno è sulle scale di Uca Vip non c'è nessuno Uno vip Uno è sicuro sempre alla del tetto Morto uno Ok Perfetto se hai preso una cura Io 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 Sto giocando con le tue cure Secondo me è utilissimo lui cos'è Ma infatti la banneranno easy Non ho la minima idea di questo La cazzo sia E' in hallway Venti Ok Che cazzo ha fatto C'è la cara delle cure Sì sì E' bellissimo Sì no è ok Non devo manco rimanervi L'ho intata Mi dicono di usare Vigil Perché che è successo Non è cambiato un cazzo di Vigil E' cambiata l'SMG E' cambiato che lo devo buildare Io ho letto ieri la novità della nuova season Quindi non so nemmeno io fino a ieri Perché questa non è la nuova season Sono i test server E' sono i test server un po' Distrutti Perché c'è la cosa dei droni Che non metteranno Esatto Stanno provando tutte le varie modifiche Tutto Metteci tutto Gennarino Ma questo ancora non è finito Metteci tutto Ah non era fatto la primaria Ora vediamo Raga va dritta l'arma Ogni tanto vedo un drop di FPS Sì pure io No è del server Uscirà dalla Minchia sei tu Mi hai fatto cagato sopra a me Aspetta ma chi cazzo è Mi sono girato tipo Oh no Sono morto Sì io ho sentito Hai dei troppi di FPS Sì è del stesso gioco C'è il stesso server Ma io posso dronare No Ah no Che cazzo drona Questo cazzo Guarda ecco Vedi perché questi perdono Non per la questione del Come si chiama Del post mortem Ma perché questo Non cerca i droni Cazzo Guarda Ha panicato Sei solo ridicoli Ti ha sparato Allora come Gli attaccanti sono coglioni Anche i difensori sono coglioni Devi mettere un bilanciamento Ma infatti I difensori sono coglioni E di base Il bilanciamento sta che Se tu fossi attaccante Potresti tranquillamente dronare No ma perché Secondo me molti Potrebbero cominciare a fare I piccabuse Di droni alla fine Madonna è starmi Con sto minimo De merda Ma che ho fatto Ma che ho fatto Arrivo eh Aspetta Aspetta Tutto pulito Dio te Aspetta che li faccio Mi sembra che ci sia gente In 90 Arrivo Nuovo operatore morto No Aspetta Tutto pulito Tutto pulito 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 Uno è Wuka 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 È sotto È sotto Aaaa Maestro è sotto Lo è Era sotto Sentivo male Morto a posta Hai 20 torretti di cura Sei gigo Ah sì Ti sgavo io Oh oh Ahahah være oh mio dio oh mio dio oh mio dio presa che è successo mi prego guarda sta roba potevo anche tronare non c'ho minimamente pensato match point match point match point when we come for you allora si ingigantiscono sempre le cose secondo me perché si sentono voci tipo dell'amico no bro ormai è finito sto gioco è finito no hanno che mettermi i culi no capito si capito ma raga tutti quelli di console no ma sarà una merda che è brutto che è schifo prima provate la regola parla quando hai provato oppure se non hai provato parla ma poi ne puoi parlare però dicendo io non l'ho provato secondo me capisce comincerà a dire noi pozzinozzi non può capisce no è finito che ne puoi parlare però puoi dare la tua opinione a caldo ma la tua opinione a caldo non può essere nient'altro con una opinione a caldo se sono curati un drone se sono curati un droni a gesto guardalo lì guarda che la legge è corrotto andiamo in vip vuoi pushare da vip è la stessa strat di prima non c'era nessuno vado vabbè sei un po un po non te lo dico l'ho detto busciamo mica giochiamo bene hai fatto apposta l'hai fatto per quello così io ti mostro che anche da morto senza aver lanciato il drone ho tutti e due i droni in mezzo al centro è un po' una merda si però questo logo in mezzo al centro è un po' una merda i droni? sono stati da via scan si nooo non c'ho più colpi si è rompucoso tacci tua u stavo così tanto sul cazzo al gioco che mi hai crashato il gioco vabbè insomma va bene riapriamo adesso mi bannano adesso mi bannano dei ts non lo piango i will be so sad non mi ricordo dove devo premere F per il defuser quindi ci sono passato sopra io sono passato sopra il defuser non me lo prendeva ci sono ripassato e sono morto perchè c'è stato eh capito ah quindi abbiamo perso il round? no 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 rotation rotation ma che cazzo stai fa? se non lo sei tu? nice minchia questo ho panicato peggio non lo so nade non ti sei persa la vittoria non ti sei presa la vittoria insomma ma ti hanno bannato? mi sa che l'hanno bannato ma hai finito la partita? e ti hanno bannato si ma che figli eeeh ciao 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 ciao